Quindi assolutamente vicinanza, non solo politica ma anche affettiva e umana del Presidente. Se avessi detto qualcosa di politico non avrei avuto timore a dirlo, siccome è vicinanza personale. Quindi in un momento in cui lui è nel mirino di tutto il mondo non è una cosa da poco. Qualcuno, gliel'ho già fatta la domanda, lei è libero di non rispondere chiaramente, qualcuno dice che invece politicamente abbia salvato se stesso. Senta, mi ha colpito una cosa, la convinzione con cui la Lega l'ha difesa, al di là dei gossip che noi giornalisti scriviamo, tutti scriverei anch'io se fossi nei giornali, che erano decisi, decisi, ho visto abbastanza... Analizziamo i fatti. La cosa di indagine parlamentare, no all'arresto. E ieri sia Reguzzoni, sia Maroni di fatto, sia Bossi, no all'arresto. Cioè la Lega che sfida l'opinione pubblica, io stesso feci a Borchezio dire, feci dire, feci intervista dove diceva io ho tre per l'arresto di Milanese, quindi la pancia della Lega. Poi invece la Lega è molto decisa su di lei. Dicono che Paolini abbia cambiato idea vedendo le sue carte. Guardi, io ringrazio il PDL in premessa e ringrazio il mio relatore, ringrazio l'onorevole Gava, Fabio Gava, che ha svolto un lavoro immenso guardando tutte le 10.000 pagine e convincendosi di quello che ha detto e come l'ha fatto. Ringrazio Panis, ringrazio tutti i colleghi Panis che ha fatto un discorso di cui si può non condividere, ma devo dire di forte impatto. Un grande discorso perché Panis è, voglio dire, anche a livello politico ha fatto un grande discorso, che è il capogruppo del PDL nella giunta per l'autorizzazione di Panis, ma tutti i componenti della giunta, tutti i membri del mio partito. Però la domanda era un'altra. No, ma la Lega, voglio dire, che reputo un grande partito, la Lega non si è espressa fino a quando, da quello che mi risulta, l'onorevole Paolini e l'onorevole Follegotti non hanno visto tutte le carte, venendo anche ad agosto, hanno visto tutte e 10.000 carte ed si sono convinti assolutamente che non ci fosse nulla a mio caso, che il processo si debba fare, debba andare avanti, ma che non ci fossero nessun, che nelle carte ci sono molte contraddizioni che sicuramente non avrebbero dovuto portare ad un ordinanzi, quindi convinto di questo, poi la Lega, ma guardi... Invece a chi dice malignamente, noi giornalisti, mi ci metto anch'io, fatta la domanda di premessa, che invece la Lega così ha salvato Giulio Tremonti? Cosa risponde Marco Milanese? Ma io rispondo, ritorno a dire, io non ho niente da dire, non sono depositario di nessun segreto, non sono depositario di alcun chissà quale ricatto, poi non rientra neanche nella mia indole fare una cosa del genere, ma soprattutto, ribadisco... Fa comodo forse qualcuno pensare che sia lei il mostro? Fa comodo, ecco, perfetto, benissimo, guardi... Scusi, non... Quando io ritorno a dire, chiedo scusa, ritorno a dire col Ministro Tremonti, mi do del lei, non è soltanto un fatto, che voglio rimarcare un fatto formale, è il fatto di non essere, di non avere quella confidenza tale di poter avere chissà quali tipi di segreti o chissà quale tipo, né con lui, né con nessun altro, di nessun partito, guardi, perché poi hanno detto di altri partiti, poi il voto di oggi penso che l'abbia dimostrato, però so che qualcuno dice, mettiamola così, che con Tremonti comunque il rapporto adesso non c'è più professionale, com'è il rapporto inesistente, qualcuno dice che com'è, cosa si può dire? È corretto che ognuno faccia le sue cose, è corretto che tra le altre cose non ci sia nessun dubbio di poter, perché anche vorrei ricordare, per chi ha letto l'ordinanza, è stato anche detto più volte che addirittura tra i motivi dell'ordinanza c'erano rapporti finanziari oscuri con il ministro Tremonti, seconda cosa, il ruolo, non essendo più consigliere politico io del ministro Tremonti, ma la mia compagna era la portavoce del ministro Tremonti, si è dimessa anche da quell'incarico, quindi non fa parte più dello staff del ministro Tremonti. Ma vi sentite, posso fare questa domanda? Con chi? Con il ministro. Le stavo dicendo, io non sento più nessuno proprio per evitare qualsiasi tipo, voglio dire, di che qualcuno possa pensare inquinamento delle prove o che altro, guardi, io sono... Chiarissimo, cioè lei giustamente si consulta anche con i suoi legali, alcune sono scelte d'opportunità, altre sono scelte anche... No, no, ma poi voglio dire, ribadisco, Scusi, mica di sentire per forza, scusi, però un giornalista le dice, ma l'hai sentito o non l'hai sentito? Viene spontaneo, no? Certo. E quindi poi le motivazioni che ci sono, siccome lei non vive in una condizione normale, possono essere mille... Ci incontriamo alla camera, ci salutiamo, e almeno quello... Ci salutiamo, ecco, poi voglio dire... Lei rimane un po', chiudiamo l'intervista, lei rimane un politico e secondo me, se non fosse stato per alcune leggerezze, che poi lei chiarirà, insomma, nelle dovute sedi, eccetera, mi auguro per lei, nel PDL, insomma, non è che le teste uovo, ne abbiamo parlato anche, abbondino, no? Cioè, non è un partito dove io salverei tantissime persone, non si offendono i miei amici... No, scusi, Chiaremona, ne abbiamo parlato, me l'ha detto lei, lo dice lei, non ho mai detto che nel partito... No, io l'ho detto. Ah no, perché adesso ne abbiamo parlato come... Io, io e il Klaus Davi, Klaus Davi. Per me ci sono molte teste d'uovo invece... Io invece ritengo di me. No, no, io ritengo che ce ne siano tante, molte teste, molte persone intelligenti. Conta quello che dice lei, non quello che dice lei. Ma tante, tante, tante... E allora, lei si è autosospeso, tornerà? Una volta... Guardi, io mi sono... Avevo rimesso... Vuole la risposta secco o vuole... Come vuole lei? Io mi sono... Avevo rimesso già da giorni nelle mani del segretario del partito, del coordinatore del mio capogruppo, l'onorevole Presidente Cicchitto, che ringrazio anche, colgo l'occasione per ringraziare sia lui che... Molto aggressivo nel difendere Marco Milanese. Sia Cicchitto, l'onorevole Corsaro e tutto il gruppo. Massimo Corsaro. Avevo rimesso sia i miei incarichi a livello regionale e nazionale, sia... E quindi avevo già rimesso, perché volevo proprio evitare che di confondere la mia vicenda giudiziaria con le vicende del partito, di un grande partito come il PDL. Dopodiché, l'opposizione ha talmente enfatizzato questo voto, proprio andando al di là, l'ha enfatizzato in maniera così politica che io ieri poi ho detto e ho fatto uscire questa agenzia che se no avrei detto oggi, poco prima del voto, ma proprio per sgombrare il campo da qualsiasi tipo di... come voglio dire, di influenza... Quindi, scusi, il titolo è Nel momento in cui sarà chiarito torno nel PDL. Assolutamente. Ho capito bene? Assolutamente. Le faccio un'ultima domanda, poi se vuole aggiungere qualcosa che ho dimenticato, lo mettiamo in coda. Però questa mi può rispondere... Ho rispettato degli ambiti di sua discrezione, però qui mi deve rispondere invece sinceramente. Le ha mai detto Tremonti che si sentiva spiato? Come invece ha dichiarato Massimo Giannini di Repubblica? Poi ha precisato. Anche lì... O lei si sentiva spiato? No, 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 io non ho mai avuto questo tipo di... Questo tipo di cose, neanche il ministro mi sembra, però mi sembra che anche lì il ministro abbia smentito che abbiamo detto... Ha precisato, ha precisato una serie o dieci giorni dopo ai magistrati, non dopo il giorno dopo al giornale. Quando è uscito il giornale non ha precisato. Poi dice... Quindi io difendo Repubblica, in questo caso difendo il collega Massimo Giannini, mi spiace, io difendo i colleghi, e poi dopo dieci giorni ha precisato. Ma la domanda era una... Al di là delle precisazioni che qui c'è un altro mio collega, Luca Cipriano, sappiamo quanto valgono. Cioè le precisazioni, la domanda è le ha mai detto Tremonti di... Quindi lei conferma la smentita di Tremonti. Assolutamente. Non le ha mai detto. Ma non ho mai avuto, io non ho mai avuto sentore di questo, né tantomeno lui mi abbia mai... Ultima cosa, veramente, se lei vuole aggiungere qualcosa dopo in coda, me lo dica. la lotta di potere nella guardia di finanza. Non sta a entrare nei vari generali, a Dinolfi, le cordate, la famosa cena... che cacchio di ambientesta guardia di finanza? No, no, no. Cioè ha bisogno di un mass mediologo, corrente immagini. No, ma adesso, voglio dire, adesso, la guardia di finanza è un corpo... Serio. È un corpo serio, un corpo sano, è un corpo, secondo me, fondamentale per la vita, per la vita di questo paese. Quindi non si può mettere in dubbio. Poi ognuno, così come le dice di mettere in coda, così come la politica. Se qualcuno, qualche singolo ha sbagliato, è giusto che pare. No, però entri nel merito. No, ma non esistono... Ma guardi... C'è successo che la cosa delle cordate, poi la cena, poi a Dinolfi, poi a... No, ma guardi, lei ha fatto un po' di... Eventuali responsabilità dei singoli non devono confondersi con il corpo che è fatto da 66 mila, 70 mila persone quante sono e da persone, da tutte persone serie, tutte, perché poi fino a prova contraria sono tutte persone, voglio dire, serie, moralmente, al di sopra di ogni sospetto e persone che ogni giorno rischiano anche la loro vita. Quindi non mi va proprio. Poi è facile parlare... Però Guido Crosetto ha detto che ha troppo potere che avete... Ma anche lì, ma anche lì, voglio dire, purtroppo, anche lì, non dico che è colpa della stampa o di che altro, c'è chi alimenta questo genere di notizie e informazioni secondo me non fa il bene non solo della Guardia di Finanza ma dello Stato perché non si possono mettere in dubbio le istituzioni. Anche lì, secondo me... Lei ci dice ci sono mele marce ma il corpo è sano? No, io non ho detto che ci sono mele marce. Lei mi ha fatto... No, 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 le mele marce ci sono in tutti i corpi e dappertutto, in tutti i corpi e dappertutto, voglio dire, anche nella politica, ma la politica non può essere intesa come una mele marcia o come qualcosa nella sua interezza. Se c'è qualcuno che ha sbagliato è giusto che paghi. Bisogna accertare che uno, soltanto perché sia parlamentare magari venga trattato in modo diverso da un normale cittadino ma nessuno si può sottrarre al giudizio della magistratura o del popolo di Guantà. E questa guerra per bande? E' così, questa guerra per bande... Ma non ci sono le bande nella Guardia di Finanza. Anche lì si vuole per forza dire di cordate, di altre cose eccetera. Ci sono poi le legittime aspirazioni di ognuno.